L'educazione è audace e rispettosa. È uno dei cardini indicati da Papa Francesco nell'udienza in aula Paolo VI e partecipanti al Congresso Mondiale su educare oggi e domani una passione che si rinnova, promosso dalla Congregazione per l'Educazione Cattolica. In un dialogo scandito da domande e risposte, il Pontefice ricorda che non si può parlare di educazione senza fare riferimento all'umanità, perché questa è la via per preparare il cuore ad accogliere il Signore. Educare, afferma, non è solo fare catechesi e nemmeno fare proselitismo nelle scuole, ma aprire giovane la dimensione della trascendenza, combattendo ogni sorta di chiusura. Francesco ricorda che il patto educativo si è rotto e che l'educazione è diventata elitare e selettiva. In tal modo si sono andati escludendo bambini e giovani, magari con capacità ma senza risorse, si è arrivate a selezionare solo con i criteri della testa e dell'interesse. C'è sempre, aggiunge, il fantasma dei soldi che rovina la vera umanità. Pertanto il suo invito agli educatori è di rischiare, perché dove c'è rigidità non c'è umanesimo e non entra Cristo. Bisogna, ricorda il Papa, scegliere strade nuove, ricorrere anche al cuore e alle mani per insegnare a pensare, aiutare a sentire bene e accompagnare nel fare. Per due volte Francesco evidenzia che gli educatori sono tra le persone peggio pagate e che questo significa che lo Stato non ha interesse in tal senso. A loro chiede però di andare nelle periferie dove i giovani hanno fatto esperienza di fame e ingiustizie, ma che possono crescere in umanità, intelligenza e valori. Il fallimento più grande che può avere un educatore conclude è educare entro i mori, i mori di una cultura selettiva, i mori di una cultura fatta solo di sicurezza.